Buonasera a tutti amici, eccoci con un nuovo video, anche se io vi avevo detto ieri che ci saremmo sentiti per un video della Coppa Italia, però stamattina ho letto un po' di giornale, ho sentito cose che mi hanno dato fastidio, perché qui si sta perdendo il senso della misura e chi governa certa informazione farebbe bene a dire le cose così come stanno. Beh, innanzitutto devo fare una riflessione su ciò che è accaduto ieri, sui gravi infortuni di Zaniolo e anche di De Miral. E sono infortuni che veramente gravi perché hanno interessato il crociato e sappiamo che, ben che vada, ci vogliono cinque mesi, dispiace soprattutto personalmente per Zaniolo, per la Nazionale, che chissà si dice forse farà tempo, ma non lo so, me lo auguro, ma poi in quale condizione, quindi non lo so. Perché trago spunto da questo? Perché in effetti questo calcio è diventato un calcio molto atletico, molto stressante, stressante dal punto di vista psicologico e fisico, ci sono degli interessi dietro veramente molto grandi e quindi anche questi giocatori vengono sottoposti a degli allenamenti molto intensi che interessano soprattutto le ginocchia e quindi quando poi capitano queste cose, ahimè, non ci si meraviglia nemmeno di questa esesperazione. Quindi la necessità delle squadre di avere delle rose molto grandi e c'è una necessità. e quindi c'è la necessità di avere dei gruppi di finanziatori, delle società grosse che possano assicurare squadre con panchine molto lunghe e che siano di valore per competere, altrimenti se non si vuole competere ad alti livelli si può fare anche 30 giocatori modesti e si lotta per la salvezza, insomma. Quindi Conte ha ragione, ha ragione, ha ragione. Non come dice questo Mino Fuccillo, il giornalista che scrive sul calciomercato, fra l'altro. Mino Fuccillo dà al Conte del vittimista piagnone, lamentoso, facendolo passare. Una persona che dice tu hai di tutto e di più, ti lamenti giusto perché non riesci a vincere. Ma veniamo ai fatti, io non è che voglio fare un discorso di parte. Ma effettivamente se si vogliono raggiungere dei grandi risultati, è ovvio che la squadra dell'Inter, pur avendo, diciamo, delle buone individualità, ma la panchina non ha buone individualità, ma è corta proprio a livello numerico. Noi non possiamo pensare di fare esordire 17 anni, 16 anni, 18 anni, persone della primavera, perché con questo calcio così stressante, così agonistico, e quindi ci sono moltissimi incidenti, piccoli, medi o gravi, come quelle che ha accolto di nuovo D'Ambrosio, Vesino e compagnia bella. E quindi poi ci sono, va bene, le squalifiche, le ammunizioni, i turnover e chi più ne mette. Quindi se tu non hai almeno 27-28 elementi in squadra di pari livello, quello bisognerebbe avere, di pari livello elevato, e quindi è normale, un Inter che adesso in Coppa Italia dovrà schierare una squadra fatta di rincalzi, dei rincalzi probabilmente. E quindi questo è, caro Mino Fuccillo, non sono scuse, non sono scuse. Ed è per la stessa ragione, amici miei, che la stessa ragione che l'Atalanta, ad esempio, l'Atalanta che sta dando spettacolo, che gioca questo bel calcio, però volevo dire a Mr. Gasperini che l'Atalanta non potrà vincere niente, per lo stesso motivo. Il Gasperini così antinterista, che adesso si è divertito a menare il camperlaia, come si dice, per un tosto subito, ebbene dovrà sapere che non potrà vincere niente. Perché? Sempre per il motivo della rosa. E oltretutto, oltretutto, è anche impegnato in Coppa, e se va avanti nelle Coppe, vabbè, buono per lei, ma vedete, l'Atalanta è un nucleo di giocatori forti, che ha uno schema consolidato, ma anche qui, quando verranno obbligatoriamente a mancare, per necessità, insomma, per squalifiche, infortuni, o che tra i quattro di questi elementi, il giocattolo si romperà, non potranno reggere, almeno, ecco, a livelli elevatissimi, cioè a livello di poter mai lottare per uno scudetto, o nemmeno, penso, per i primi due, due o tre posti, specie se andrà avanti in Champions, ne credo che poi l'Atalanta difficilmente possa anche lottare per il quarto posto, però potrei anche sbagliarmi. La Lazio, la Lazio vale la stessa cosa, la Lazio, ad esempio, Luis Alberto, se c'è, si nota, e come che si nota, non c'è, e la Lazio perde il 20-30%, immobile, idem, punta di diamante, ma se non c'è, si nota e come. Non è come la Juve, che Higuain scalpita, e poi di bala esce, si mette la mano davanti alla bocca, e grida qualche improperio, a un signor allenatore, che sta lì, e poi ne parliamo. Comunque volevo dire, tornando un attimino all'Inter, che la dobbiamo finire, con questa cosa che ho accennato, pure nel video di ieri, però io sento ancora, Eriksen, Vidal, Ashley Young, Giroux, finiamola, finiamola, perché o questi personaggi, ormai siamo a metà mese, vengono e vengono subito, o è meglio andare, per le vie brevi, con dei giovani, che vengono a, giovani, ovviamente, di valore, che vengono a rimpolpare una rosa, che effettivamente, effettivamente è labile, anche se, come vi ho detto, io non credo proprio che possa puntare allo scudetto quest'anno, almeno, perché la Juve è quello che è, come pure il Napoli, il Napoli niente, il Napoli, il Napoli è una, una lentissima decadenza, perché c'è un presidente, che è un, un monarca, insomma, un monarca di, 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 di provincia, che vuole guadagnarci sul, sul calcio, quindi, secondo me, non potrà fare niente, ha fatto un paio di acquisti, di personaggi, semi sconosciuti, lo botta, quell'altro, Diego, Demme, come si chiama, insomma, cose ridicole, e, da quando si è andato a Sassi, c'è stato questa, questo precipitare, lento, e inesorabile, che, ahimè, continuerà bene o male, in Napoli, mi auguro si possa riprendere, ma, non so, anche qui è difficile, che possa arrivare a questo posto, concludo, con, una riflessione, sulle parole di Sassi, amici, ma voi l'avete sentito, ieri a Sassi, che ha detto, ha detto qualcosa, di, eclatante, un qualcosa, di terribile, che fosse passato, così, alle orecchie di qualcuno, gli hanno domandato, ma il, il, la Juve di Sassi, dove, perché, il gioco di Sassi, è quello, espressa a Napoli, con l'insegna, il mestre, il caleon, quegli scambi, eccetera, e lui ha detto, non c'è, non è il mio gioco, quello della Juve, non è il mio gioco, di Sassi, purtroppo, questo calcio spettacolo, hanno sbagliato, non è così, e l'ha detto anche lui, ieri, molto chiaramente, molto duramente, e mi è piaciuto, pure, questa sua, forma di, di sincerità, il vero Sassi, il gioco, il grande gioco, di Sassi, è stato espresso a Napoli, è stato espresso a Napoli, con quel fraseggio, tra i piccoletti, dice la Juve, la Juve è potente, è strapotente, io mi trovo qua, le alleno, altrimenti farei l'allenatore, di me stesso, quindi, questa è la mia riflessione, un po' amara, un po' amara, perché, questo calcio, agonistico, purtroppo, richiede, richiede, delle rose, molto, numerose, e, investimenti, molto grandi, perché, altrimenti, squadre, come la Juve, vinceranno sempre, come il PSG, vincerà sempre, in Francia, come il Barcellone, vince in Spagna, bisogna, come dire, mettere le mani al portafoglio, e questo è, non è che il conte, che è piagnone, caromino, fucillo, no, dice semplicemente, la verità, questo è tutto, vediamo domani, questa Inter B, o Inter C, cosa farà con Cagliari, ciao a tutti,